Ci ha lasciati l'étoile della danza italiana. Aveva 84 anni. Carla Fracci nel 2014 venne nella città di Agropoli accompagnata da suo marito Peppe Menegatti e dallo scrittore Paolo Maria Noseda per presentare il suo libro Passo dopo passo. Al suo esordio come scrittrice aprì la settima edizione del Settembre Culturale. Tante le scuole di danza e le persone che accorsero ad Agropoli per ammirare la stella della danza. In quel periodo era in costruzione il cineteatro Edoardo De Filippo. Non mancò infatti da parte sua una visita al cantiere della struttura né fece mancare parole di apprezzamento. Un paese senza cultura e arte, senza i mezzi per fare cultura e arte è un paese che non si rinnova, che si ferma e non ha accesso a ciò che succede in paesi più importanti negandosi così ad un futuro vero, autentico e soprattutto libero Questo è il suo commento sul cineteatro. Spero che le istituzioni possano fare di più per questa arte nobile, lo diceva ai nostri microfoni. Nel 2014, quando fu ospite alla settima edizione del Settembre Culturale al Castello, lanciando un messaggio ai giovani del mondo della danza Bisogna puntare sulla dedizione, sul lavoro, la volontà e la costanza. Non ci sono bacchette magiche. Il desiderio di Carla Fracci nel 2014 era quello di ritornare ad Agropoli e presentare nel teatro della città il suo spettacolo. Ora venirebbe a fare qualcosa per la danza, che le istituzioni avessero più attenzione a questa arte nobile. Comunque è stato bello questo incontro e spero di tornare presto. Tra l'altro, come diceva Noseda, che mi ha presentato, ho fatto uno spettacolo recentemente, neanche un mese fa, per cui con un grande successo, che spero di poterlo portare a questo teatro che inaugureranno qui. Tantissime le ballerine questa sera sono venute qui al Castello per assistere la sua presenza. Ecco, a loro un consiglio da una grande maestra. Il consiglio che posso dare? Tanti consigli, ma comunque sia di lavorare, è lavoro soltanto. La dedizione, la volontà, la costanza, per cui non ci sono fantasie, non ci sono pacchette magiche, per cui è solo e soltanto esclusivamente il proprio lavoro, per cui devono armarsi di coraggio. Poi se lo fanno così, per diletto, non come professione, va benissimo, è un'educazione anche fisica e poi di educazione proprio di rigorosità e di disciplina, per cui questo è importante per i giovani e hanno sempre da imparare. Aggiunge sempre di più e con una conoscenza proprio di quello che può essere un'attività che poi gratifica. Certo, è difficile poi il passo, è passo dopo passo, proprio come il mio libro. Un saluto a tutti i telespettatori di Cilento Channel. Un saluto caloroso, affettuoso.